Oggi è il 16 luglio del 2014, sono cambiate tante cose, questa volta anche se dovrei dire negativo, questa volta in positivo, perché ho capito davvero che erano, ho capito davvero. Come si dice, ho aperto davvero io, cosa vorrebbe dire, vorrebbe dire che la famosa amica, se possiamo dire amica e qui dico, metto una parentesi, io tanto amavo, tanto stimavo, che era per me un angelo, grazie a delle persone che mi mandano davvero bene, mi hanno fatto capire che quell'angelo, che era il demonio, su tutti i punti di vista. Poi mi spiega anche perché è fuori questo telefono. Sì. 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 Che dal bene che mi voleva non era un bene sincero, ma un bene in cose sue, come si dice, solo per interesse. E l'ho capito in tanti modi, l'ho capito proprio adesso, e sono stato anche Tristone a rinconciliare l'amicizia che lei non ha voluto. Adesso, 16 luglio 2014, sono contentissimo che non l'ha voluto. E sinceramente, quello che gli sta passando ora, o che sta facendo ora, o quello che farà, non me ne prega assolutamente niente. Invece prima ero preoccupato, non avevo pensato, ma adesso ho fatto. E senza farlo apposta, e poi se c'è un dio che mi sta guardando, se qualcuno mi sta guardando, dopo averla lasciata o l'altra, dopo, nemmeno un giorno, ho conosciuto un'altra persona, un editorino, ma è di Sardegna. Allo stesso modo, lo stesso fare di che siamo, ci messaggiamo solo. Non dico il nome, non voglio dire il nome, perché è una cosa mia, però posso dire che, anche se ci messaggiamo, anche noi ci vediamo, l'importante è che ci sia rispetto. Poi un po' più là forse ci sentiremo, o un po' più là, ancora futuro ci vedremo, ma questo è tutto il destino che lasciamo fare a lui, non tramontiamoci a lui. E questo, per esempio, Cristiano la metto come archivio della mia vita, come archivio di tante e ex migliori amiche che ho avuto. Per esempio, la mia memoria, fate in conto, la mia memoria è un magazzino di archivio, con tanti scappati. O di scappare, o di... C'è una cosa per la terra, che si sente il tuo nome dell'ex. Ecco, io metto con una cartellina, scritta, po' di danziani, e l'archivio. Potrò dipendolo, non penso che potrò dipendolo. Rimane, come si dice, più di polveri. Ovviamente quello che penso adesso poi io, ma penso che rimanerà più di polveri. Il parà polvere di una... E ripeto, adesso c'è un'altra momentica, che non voglio dire il nome, non voglio dire il cognome, solo solo per la Sardegna, ripeto, non mi interessa se non ho fatto il deputato, l'incirità e... e il vero amicizia. Detto questo, eh... sono delle idee che è amicizia, non è quella persona, sia delle idee che è amicizia, non è per l'interesse, sono delle idee che questa è stata un'esperienza abbastanza, diciamo, molto, molto... molto bella, sì, è produttiva, molto bella, ma anche molto, molto... diciamo, impegnativa, ecco, quello che voglio dire, impegnativa. Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie.